Ciao ragazzi, sono io, la ragazza più fredda del mondo. E questa è la mia parte più calda. Non lo so ancora, ma molto presto le nostre strade si incroceranno. Ehi, Siu, devi venire subito alla festa in piscina. Sì, festa! Ah, sì, mi piacerebbe tanto, ma vedi ho così tanto da fare. La tua crash è qui. Dieci minuti e arrivo. Festa! Oh, Siu, sono così felice di vederti. Oh, ciao. Ma perché sei vestita così? Non lo so. Cosa? Ma tu... Ciao dolcezza, balla con me. Perché sei così fredda? Rilassati, toglitelo. Ma perché non riesco a essere sexy come le altre? Hai chiamato la ballante Siu? Cosa? Hai del make-up? Mi prendi in giro? Wow! Ora sei pronta! Andiamo! Un secondo! Non farlo più! Bene, andiamo! Andiamo! Ma che ne dici del secondo primo ballo? Perché no? Su, stai bene? Sì! Ok, posso farti una foto? Sì! Se insisti... Tranquilla, Siu! Sei come una modella! Rendiamo tutto più romantico! Guarda, ma è così carina! Forse posso aiutare? Ah, grazie. Siu! Ma vai via! Ok. Hai mai abbracciato un ragazzo prima? Beh, mio padre? Oh, tesoro! Hai bisogno di una lezione? Ragazza pazza! Sai, mi piaci un po'. Oh, guarda, è lui! Anche tu mi piaci! Mi piacerebbe andare in spiaggia insieme! Sei pazza! È troppo diretto! Non lo so, vedremo! Ma è scortese! Esatto! Ora ti verrà dietro! Ma devi ignorarlo fino a domani! Te l'ho detto! Buon appetito! Non mi piace la pizza calda! Non riesco a dormire! Fa troppo caldo! Sto congelando! Ok, basta! Ho un'idea! Ok! Sembra che il bagno sia già occupato. Non è un problema. Anche se... Ancora non è abbastanza caldo! Che strana doccia! Cosa stai facendo? Mi lavo la faccia con il ghiaccio e far risplendere il viso! Posso provare anche io? Certo! Guarda! La mia pelle è davvero luminosa! Il mio ghiaccio! Ehi, Sue! Dove sono i miei compiti? Scusa, mi sono scordata! Cosa? Cosa significa? Dove sono i miei compiti? Che c'è? Dovresti liberare a difenderti! Oh! Classe! Come state? Sue! Wow! Ma com'è sexy! Aiutami! Perché l'hai lanciato? Rispondi, Sue! Andiamo, Sue! Rispondi, Sue! Vedi? Non è così spaventoso! Cosa c'è di divertente? Vai dal preside! Adesso! Saltiamo il preside! Oggi abbiamo un appuntamento! Il tempo è perfetto! Ciao, ragazza! Andiamo a prendere il sole! Dai, andiamo! È così caldo! Stai bene adesso? Sì, ci andiamo a prendere un gelato, ti va? Facciamo quello che vuoi tu! Oh, no, 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 no! Il gelato fa male alla pelle! Ci vediamo a casa! Ok! Con chi stai parlando? Nessuna! Questo posto ha bisogno di un bel restyling! Ah, molto meglio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio, Sue! La tua stanza è fantastica! Questo ragazzo ha buon gusto! Ma perché? Beh, è disordinatamente figo! Guarda i colori! È questo rosso! Non mi piacciono le ragazze noiose, sai! Vieni qui, piccola! E ora il primo bacio! Io sono una ragazza noiosa! No, non lo sei! Lo sono, devi andartene! Ok! Ci ho provato, ma tu hai rovinato tutto! Battene! Questa è la mia stanza! È la mia stanza ed è la mia vita! Torna nel tuo mondo! No! No! Come Osi! Sono tua amica! La tua unica amica! Mi dispiace, ma siamo troppo diverse! This is me! Yes, I'm always by myself! And I can feel free! This is who I am and who I will be! This is me! My loneliness and healing is who I am and who I'll be! Cosa? Iscriviti!